A causa di una norma della protezione civile e dunque per questioni di sicurezza idraulica, il lago di Santa Croce, come altri bacini della provincia, deve essere portato entro la metà di settembre a quota 381 sul livello del mare, dunque parzialmente svuotato, per consentire la laminazione del piave. Questa operazione però rischia di destagionalizzare il turismo e di impoverire dunque il territorio la cui stagione è già partita in ritardo a causa del maltempo. Negli ultimi anni, infatti, la fine dell'estate e il primo periodo autunnale stanno regalando giornate miti che permetterebbero di mantenere un buon flusso di turisti. A partire dal 20 agosto, circa, come ogni anno, il lago di Santa Croce, come tanti altri laghi in provincia di Belluno, inizia a svuotarsi. Questo per raggiungere la quota 381, che è stabilita da una legge che impone di arrivare a questa quota per questioni di sicurezza idraulica. Allora ho chiesto ad Enel di poter ritardare quanto più possibile questo svuotamento del lago perché la stagione turistica, che è già partita male nell'anno 2024, potrebbe invece adesso allungarsi un po' di più e quindi consentire anche ai nostri operatori turistici di lavorare uno o due fine settimana in più. Mi chiedo anche se questa legge è ancora attuale perché con i sistemi di previsione del tempo che abbiamo oggi, che sicuramente non sono quelli di un tempo, magari si riesce a gestire in maniera un po' più intelligente, in maniera un po' più moderna anche il livello dei laghi della provincia di Belluno. E inoltre mi chiedo anche se coloro che utilizzano la nostra acqua a valle, l'acqua del lago di Santa Croce e l'acqua degli altri laghi, la utilizzino in maniera intelligente e sostenibile. Siamo nel 2024 e se la risorsa idrica è una risorsa di tutti, serve anche che tutti la gestiscano in maniera sostenibile e responsabile. Grazie. Grazie.